La FRAUDOLENT Quinterra ha missione su Marte. Diteci ragazzi, c'è acqua sul pianeta? La FRAUDOLENT La società che ha finanziato l'impresa. Oh, assurdo. Per favore, questo atterraggio su Marte è tutta una montatura televisiva. Davvero? Tu credi, Rathman? Ma certo, Bracco. Questo sbarco è stato girato a Hollywood. Come nel 1969 hanno girato quello sulla Luna. E come nel 1492 hanno girato quello di Cristoforo Colombo in America. Oh, andiamo, amico mio. Tu vedi complotti dappertutto. E tu invece sei un fanatico delle missioni spaziali. Oh, sì, le adoro. Il mio sogno è quello di essere il secondo uomo di colore a camminare su un altro pianeta dopo Armstrong. Comunque tu sei solo invidioso perché non hai superato i test per fare l'astronauta. La missione dei due astronauti risolverà forse alcuni dei più grandi interrogativi dell'umanità. C'è vita su Marte? Sicuramente c'è più vita lì che in questo pub. Ci sono creature intelligenti? Sicuramente ce ne sono più lì che in questo pub. Intanto, un primo mistero è già stato svelato. Ecco perché non ricevevamo più informazioni dalle sonde lanciate mesi fa. Un momento, sembra che gli astronauti abbiano trovato qualcosa. È incredibile, gentili telespettatori. Stiamo assistendo in diretta a un evento epocale. Si tratta forse del ritrovamento di una piramide aliena sepolta? Tra poco torneremo a occuparci di questa sensazionale scoperta. Ma ora, qualche istante di pubblicità. Enciclopedia Fraudolent, il piacere di sapere. 20 volumi per soddisfare tutte le curiosità dei nostri ragazzi. Cos'è Marte? Oh, non lo so. Scopriamoli insieme sull'enciclopedia per ragazzi Fraudolent. Sì! Marsupio, Martagone, Martedì... Oh, Marte non c'è. Ma in fondo a ogni volume c'è l'indirizzo internet dove è possibile vedere Pamela Oversize Nuda. Enciclopedia per ragazzi Fraudolent, il piacere di sapere. Attenzione, i volumi non contengono la lettera B Siamo di nuovo collegati con l'evento del secolo Ma, un momento Non si tratta di una piramide sepolta Sembra essere una sorta di manufatto alieno Attenzione, l'oggetto si è animato È incredibile, cari telespettatori Dall'oggetto alieno è partito un raggio verde Diretto, chissà tu Ehi, hai sentito Bracco? Presto Usciamo a vedere cos'è successo Oh, accidenti Proprio adesso che volevo vedere come andava a finire la storia del raggio verde Ecco il raggio verde Viene davanti È stato il raggio verde Polizia, tornate alle vostre case È tutto sotto controllo State indietro, state indietro Che cos'è quella cosa? Niente paura, gente È solo un distintivo della polizia Un marziano Ci distruggerà Un vinto Forse è solo il suo modo di salutare Non c'è quella cosa divine Sì, per essere.. Oh, è tutto Oh, è tutto Oh, è tutto Oh, è tutto I proiettili non lo fermano Devo andare a cercare aiuto Va pure, Bracco Penso io a mettere in salvo la gente qui Resto da questa parte Qui dentro sarete al sicuro E' panico nelle strade della città senza nome Il misterioso raggio verde uscito dalla piramide marziana Ha materializzato sulla terra un devastante robot Che sta distruggendo tutta la città Ci colleghiamo con il nostro inviato Sam Ronalds Che è sul luogo del disastro La situazione sembra... Grazie Ronalds Ci colleghiamo ora in diretta con gli astronauti su Marte Ragazzi mi sentite? Forse è chiaro Clara Il raggio verde della vostra piramide Ha materializzato sulla terra un micidiale robot Che sta distruggendo la nostra città Qualche commento? Scusa, come dici? Ci sono delle... Frenze La situazione è davvero critica Ma la città senza nome ripone le sue speranze In un eroico intervento del nostro supereroe Ratman La città ormai è spacciata Devo fuggire Devo fuggire in fretta Oh no! La famosa statua del soldato vigliacco Il porto! Fuggire di amare è la mia unica speranza Presto! Che cosa aspettate? Perché non volete salire? Capitano Temo sia a causa del nome della nave Aspettate! Mi avete lasciato qua! Tornate indietro! Iceberg! Pazienza Prenderò il prossimo Il coronavirus è un progetto No no! Ehi, ma che cosa mi hai preso? Io non posso pensare a scappare. No, non posso. Io devo pensare a salvare la mia città. Io sono Radman, il supereroe. Il mio posto è qui insieme a tutti voi. Generale, mantenga la posizione. Tornerò con qualcosa che potrà fermare quel mostro. In bocca al lupo, ragazzo mio. Avanti, proviamo con la bomba H. Signor generale, qui non c'è. No, ormai tutto è perduto. No, un momento. Questo rumore non può essere che il Rapper Villa. Ormai è finita per te, ragazzone. Rapper Villa, avanti tutta! Ritirata! No, noi non possiamo arrenderci. Mi dispiace, ragazzo. Siamo stati sconfitti. La terra è spacciata. Ma non disperare. Scaveremo cumiculi dove ci rifugieremo per anni e organizzeremo la resistenza. Sconfitto è una parola che non esiste sul mio vocabolario. Anche tu hai comprato l'enciclopedia per ragazzi fraudolent? E ma come fa a saperlo? Le pistole, le bombe, i cannoni non sono riusciti a fermarlo. Ma forse, forse se riesco ad avvicinarmi a lui, posso provare a strangolarlo. Mi sembra un ottimo piano. Buona fortuna, ragazzo. Sì! Carica! Fuori! Fuori, mostra! Io, amico, vengo a... Ottimo lavoro, ragazzo. Ce l'hai fatta, Rattman! Lo hai fermato! E grazie a quest'uomo, grazie a un solo uomo, oggi l'umanità ha respinto la pericolosa minaccia venuta da Marte. Ma d'ora in poi saremo bronchi. Non sapevoli del fatto che le civiltà aliene, ovunque siano, ci temono e vogliono distruggerci con le loro trappole. Lasciate sui pianeti vicini. Ora sappiamo che gli alieni sono nostri nemici. Prepariamoci a combatterli per guadagnarci il posto che ci spetta nella galassia. Sovra gli alieni! E viva l'umanità! Tesoro, il piccolo non trova il suo pupazzo preferito. Forse l'ha perso su quel pianeta privo di forme di vita intelligente che abbiamo visitato durante le vacanze. Papà, torniamo indietro! Cosa? No, non se ne parla neanche. Siamo già distanti 300 anni luce da quella zona. Con tutto quello che costa il carburante. Insomma, Junior, smettila ora. Tieni, gioca con gli altri. Ehi, guarda là! Cosa pensi che sia? Ah, non lo so. Mi scusi, che ore sono? Sono le sei del pomeriggio. Grazie, ben gentile. C'è ancora tempo per una birra. Vieni, oggi ho frio. È proprio un mondo meraviglioso. Vieni, oggi ho frio. 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 Vieni, oggi ho frio.